Paolo Fox, oroscopo di oggi domenica 11 agosto. Le previsioni segno per segno. Amore, lavoro, benessere, fortuna. Cosa dicono le stelle secondo l'astrologo più famoso della tv? L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 11 agosto. L'astrologo più famoso della televisione. Ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Latte Miele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, domenica la luna per fortuna non sarà in opposizione e la situazione diventerà gradualmente più tranquilla. Continuate ad essere uno dei segni zodiacali più potenti in questo oroscopo. Solo chi vuole cambiare tutto può affrontare ulteriori difficoltà. Scema la tensione nella coppia. Sul posto di lavoro tutto sembra procedere bene. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Toro, 20 aprile, 20 maggio. Domenica dovrete affrontare la luna opposta. Soprattutto quando si tratta di amore, dovete stare molto attenti. Nei prossimi giorni, molti di voi che non stanno vivendo un buon rapporto con il partner si troveranno spalle al muro. Diffidate delle persone che cercano di farvi del male sul lavoro. Questa domenica è da prendere con le molle. Ci vorrà molta pazienza e saggezza da parte vostra. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Gemelli, 21 maggio, 21 giugno. Nelle prossime ore avvertirete una forza speciale, soprattutto in campo amoroso. Domina tutto il mese di agosto, raggiungendo il suo apice a partire dal 29. Alcune persone vogliono chiarire i propri sentimenti, soprattutto quando si tratta di amore. Coloro che sono stati traditi hanno difficoltà a perdonare. Le persone che vivono nuove storie vivono ogni giorno. Nei prossimi giorni dovete lavorare ad un nuovo progetto di lavoro. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Cancro, 22 giugno, 22 luglio. Avete trascorso diversi giorni in cui vi siete addentrati in discussioni infruttuose, potete finalmente ritrovare la tranquillità. Durante il fine settimana potrebbero sorgere problemi amorosi. Forse avete bisogno di un po' più di sicurezza. Prova a guardare oltre le cose, non fermarti alle apparenze e soprattutto non permettere all'ansia di bloccarti della zona comfort. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Leone, 23 luglio, 23 agosto. Con il sole nel vostro segno e aspetti favorevoli a Marte e Giove, questa volta siete voi i protagonisti assoluti. Coloro che lo desiderano avranno l'opportunità di sperimentare una trasformazione di successo. In questi giorni preferite nuovi contatti e incontri con persone che possono essere utili sul lavoro. Presto nascerà un sentimento speciale. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Vergine, 24 agosto, 22 settembre. Come prevede l'oroscopo di Paolo Fox, domenica inizia un periodo in cui le famiglie potranno riconciliarsi quando sorgono difficoltà. Devono essere prese decisioni importanti che coinvolgono i bambini. Cambiamenti necessari sul lavoro. Cresce la voglia di fare qualcosa di innovativo. Costi per l'abitazione, contatti con altre città. Il tutto in serenità e in armonia. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Bisogna dare spazio al divertimento, allo svago, all'amicizia, agli incontri e accettare gli inviti. Soprattutto se siete stati malati solo di recente, dovete impegnarvi al massimo per raggiungere la positività. Ci sono alcune cose che dovrete rivedere nelle prossime settimane di lavoro. Novità interessanti all'orizzonte. Rimettetevi in gioco. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Domenica la luna sarà nel vostro segno. Sarete pieni di energia e motivazione. Potreste stare per sperimentare un cambiamento importante nella vostra carriera o un grande rimbalzo nella vostra vita amorosa. Coloro che sono soli dovrebbero cercare di uscire dal proprio guscio e incontrare nuove persone. Una cosa è certa, qualcosa cambierà perché lo volete. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Domenica potreste essere sopraffatti da dubbi e paure riguardo al vostro futuro. Probabilmente perché siete nervosi e stanchi e il progetto su cui stavate lavorando sembrava avere troppi intoppi. Sfortunatamente, prima di ottobre e novembre, è probabile vivere una vita di ansia e attesa. Quindi riceverete i primi risultati. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox anche domenica la luna sarà forte, permettendovi di ritrovare le energie perdute nelle ultime ore. È giunto il momento di approfondire la vostra comprensione con chi vi circonda e creare maggior spazio per i vostri figli. Quando si tratta di amore, è meglio dire meno e fare di più. Tutto ciò è innegabile. Date un po' di verva alla vita di coppia o flirtate se siete single. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. Domenica cominceranno aggiungere segnali di cambiamento positivo. Naturalmente, alcuni potrebbero dover fare i conti con ritardi e costi. La relazione svelata nei prossimi giorni potrebbe prendere una piega molto interessante. Le coppie nate di recente non sono di sottovalutare, mentre quelle di lunga data dovranno ritrovare un po' di complicità. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Pesci, 20 febbraio, 20 marzo. C'è molto da fare in autunno, quindi dovete mantenere la calma e affrontare tutto. Rimuovete tutto il sé e cambiatelo in sì. Tutto quello che dovete fare ora è preparare la tua mente e il tuo corpo per le grandi sfide che dovrete affrontare nelle prossime settimane. Una domenica rilassante che vi farà sentire di nuovo ottimisti. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Bisogna dare spazio al divertimento, allo svago, all'amicizia, agli incontri e accettare gli inviti. Soprattutto se siete stati malati solo di recente, dovete impegnarvi al massimo per raggiungere la positività. Ci sono alcune cose che dovrete rivedere nelle prossime settimane di lavoro. Novità interessanti all'orizzonte. Rimettetevi in gioco. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Domenica la luna sarà nel vostro segno. Sarete pieni di energia e motivazione. Potreste stare per sperimentare un cambiamento importante nella vostra carriera o un grande rimbalzo nella vostra vita amorosa. Coloro che sono soli dovrebbero cercare di uscire dal proprio guscio e incontrare nuove persone. Una cosa è certa. Qualcosa cambierà perché lo volete. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Domenica potreste essere sopraffatti da dubbi e paure riguardo al vostro futuro. Probabilmente perché siete nervosi e stanchi e il progetto su cui stavate lavorando sembrava avere troppi intoppi. Sfortunatamente, prima di ottobre e novembre, è probabile vivere una vita di ansia e attesa. Quindi riceverete i primi risultati. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox anche domenica la luna sarà forte, permettendovi di ritrovare le energie perdute nelle ultime ore. È giunto il momento di approfondire la vostra comprensione con chi vi circonda e creare maggior spazio per i vostri figli. Quando si tratta di amore, è meglio dire meno e fare di più. Tutto ciò è innegabile. Date un po' di verva alla vita di coppia o flirtate se siete single. Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2024. Acquario, 20 gennaio, 19 febbraio. Domenica cominceranno a giungere segnali di cambiamento positivo. Naturalmente, alcuni potrebbero dover fare i conti con ritardi e costi. La relazione svelata nei prossimi giorni potrebbe prendere una piega molto interessante. Le coppie nate di recente non sono di sottovalutare, mentre quelle di lunga data dovranno ritrovare un po' di complicità. Grazie.